Questo fiume dovrebbe portare al monastero. Percivalo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Percivalo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Mi stai sicuramente prendendo per i fondelli. Percivalo il nostro corso gratuito. Percivalo il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ah! 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 Oh! Oh! Fucking tune! Oh! What's that? Oh! 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 Forza. Grazie. Tutto bene? Ok, saliamo al monastero a vedere che sta su.